Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Fortnite Oggi vi parlerò dei server privati La scorsa volta in live vi ho mostrato che giocavamo tutti insieme nei server privati Beh, alcuni non sapevano come si fa, quindi in questo video vi spiegherò come si fa Però, prima di tutto, ricordatevi di mettere il supporto creator Dato che, come potete vedere, sono uscite tutte le skin di Deadpool, cioè Deluxe Force Quindi, il mio supporto creator è Giacomo Atto, mettetelo e iniziamo a parlare Noi giocavamo tutti insieme, quindi, in coppie e non riempire Beh, se voi chiedete, ma perché coppie e non riempire, non facciamo prima mettere il singolo E invece no ragazzi, purtroppo non funziona, un singolo non funziona Quindi, dovete per forza mettere coppie e non riempire Poi, se siamo in tanti, faremo coppie e riempi Così ti troverai con qualcuno casuale Ma non l'abbiamo ancora fatto, perché comunque non ci va ancora di farlo Perché eravamo pochi, eravamo dieci Quando saremo un po' di più, lo faremo Ora, come potete vedere, noi dobbiamo mettere opzioni personalizzate E in quel caso il codice era BANANA E quindi voi siete sicuri di averlo scritto E poi mettete accetta E giocate Quindi, dopo un po', se ci mette tanto per avviarsi è normale E quindi inizierà Voi avvierete e starete in partita E niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto Ricordatevi di iscrivervi al canale Lasciare un like, accendere la campanellina Condividere questo video con tutti i vostri amici Mettere il mio supporto a un creator Giacomatto Ci rivediamo in un prossimo video Ciao 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 ciao